un bacio a tutti buongiorno ben tornati e abbiamo ripreso con le dirette per questo nuovo anno le ferie sono finite purtroppo attenderemo natale e come è stata come va attendiamo qualche altro minuto l'arrivo di altri io nel frattempo sto grattugiando il limone perché la ricetta che faremo oggi è uno sfizio per un aperitivo un antipasto anche un secondo semplice sono delle polpette visto che oggi è venerdì abbiamo pensato di farle di pesce quindi di tonno al profumo di limone ingredienti semplicissimi facilissimi da da trovare niente di così complicato come tutte le ricette che vi proponiamo è tornata mia sorella dietro dietro il cellulare va bene dire che può passare da un grattugiato una pasta allora come sempre lo dico in anticipo così non disseccate l'uva la ricetta mettiamo appena finiamo di preparare tutto con la foto vi metterò gli ingredienti e tutto per ora viene elenco allora questo sta scolando dunque ho preso due patate piccole lessate e schiacciate dopodiché cioè lessate ora le schiaccieremo dopodiché abbiamo 300 grammi di tonno in scatola due uova abbiamo due fette di pane casereccio io non ci avevo preso un panino al burro no al burro scusate uno sfilatino e ho tolto soltanto la parte interna poi abbiamo prezzemolo uno spicchio d'aglio ma in realtà questo poi grande quindi non lo metteremo tutto abbiamo dell'olio aromatizzato al limone tre cucchiai di parmigiano la buccia 300 grammi si la buccia di limone che non grattugiato nel frattempo con un relativo succo e poi abbiamo sale e pepe e sale e pepe niente e l'olio per friggere se il pangrattato si è pangrattato vero l'olio se volete friggere altrimenti vanno bene anche in forno vengono buonissimi allora diamo possiamo iniziare direi tanto qualche minutino abbiamo aspettato video ciao io già da ti guardiamo leo ti sta guardando ciao cuori ciao un bacio a tutti tutto bene tutto a posto allora io direi che possiamo iniziare qualche minutino l'abbiamo perso per aspettare gli altri sì dai procediamo ho detto di che cosa ho detto che cosa faremo oggi che cosa facciamo oggi l'ho detto che ricetta va bene polpette tonno al profumo di limone che cucinate voi di buono oggi in realtà mia sorella come sempre si è auto invitata io anch'io mi sto sempre più trasferendo in questa casa e in realtà lei voleva allora ieri pensando no fei ma che cosa cuciniamo se ne fei cosa prepariamo io e davide ci guardiamo ciao davide ciao lì e daviduzzo lo ciao a chiedendo che cucini polpette ritorno al limone allora mia sorella voleva pasta e peperoni come sempre c'è insomma avete capito ormai che mia sorella voi la dovete spronare a fare i conchiglioni con i peperoni vi dovete fidare di me io vi assicuro che sono buoni allora io non faccio questa ricetta nella diretta soltanto perché molte vogliono giustamente una diretta corta che non duri insomma per mezz'ora venti minuti e quindi questi conchiglioni non si possono fare però può fare una video ricerche noi vero scelta quella nella sezione nella sezione della pagina sezione video trovate conchiglioni che dice federica con i peperoni la salsiccia e la ricotta ed è velocissima perché sta ricetta dura un minuto e 30 ed è proprio sintetizzata al massimo però vi assicuro che buonissimo per chi si è appena collegato stevania ciao ciao ce l'hai fatta ce l'ha fatta a vedermi perché era incerta ciao fabiola bentornati benvenuta tra noi un bacio a tutte allora perché si fosse connessa ora è inutile già vi anticipo non scrivete mai gli ingredienti quali sono perché andate a vederli dall'inizio appena finiamo la diretta pubblicherò il video e o è anche elencato tutti gli ingredienti dunque abbiamo messo al mondi boccia di un limone due uova 300 grammi di parmigiano ripeto dai direi che può bastare l'aglio è uno spicchio d'aglio e tre cucchiai di parmigiano due fette di panne casereggio diciamo soltanto la parte più morbida interna la boccia di un limone non so se l'ho detta la ripeto due patate less e schiacciate e il succo del limone l'analisa moriello e cinzia fraudi salutano anche giusico e solino ciao ciao care bentornate noi siamo ritornati operativi complimenti analisa moriello grazie care e quindi siamo tornati operativi e da oggi partono le nostre dirette settimanali e vediamo soltanto inizio la scuola e faremo di pomeriggio di pomeriggio durante le scampi bevete allora mettiamo il sale una manciata di pepe quanto ora devo mettere l'olio aglio l'aglio era uno spicchio grande ma in realtà ne ho messo meno di metà brava allora olio aromatizzato al limone ne vanno quattro cucchiai però secondo me sono troppi vi mettiamo due quindi da coprire ogni tanto neanche nando ciao nando ciao claudia allora in passiamo forse dire io non c'è un altro uomo no per me sorella vanno nuova ovunque dovete sapere anche questa cosa il pangratt infatti stavo dicendo io il pangrattato ancora non l'ho aggiunto perché volevo capire quanto mettermi tutti saluta nando mettiamo pangrattato allora io c'ho due diversi tipi di pangrattato questo qui è pangrattato frullato con la boccia del limone prezzemolo l'aglio sale e dovevo prendere vabbè faccio così da un cucchiaio sì infatti mi sono dimenticato niente comunque aromatizzato al limone questo qua lo uso quando devo fare le gratinature di pesce perché prossimamente facciamo anche questa diretta ora che ci penso facciamo quelle mazzancolle a limone quale volevo la foglia se quelle che possiamo fare sono carine sono veloci sono sfiziose cosa con la carne e li faremo anche certo non mostro che sono una maniera del pesce ci mi piace la torta il pesce tina signore ti saluta ciao dina che cucinati di buono voi mettiamo un altro pochino e a questo punto come farebbe chiunque ciao che ci fai allora ora non scrivere ci vogliono i guanti ci vuole che la mascherina il berretto perché c'è signore mia mo con tutto che voglio veramente bene ci tengo a voi e faccio le dirette soprattutto che fa fin alla pizza sta facendo noi l'abbiamo fatta ieri sera dicevo buonissima con i peperoni perché ci vanno i peperoni e il tonno con tutto il bene che posso vedere ora voglio cioè vorrei proprio vedere chi di voi a casa cucina con la mascherina i guanti e il caffè allora toni ha detto se passi dal bar offre un ginseng voglio la musa del caffè nando ha detto che mia moglie lenticchia e meranzone a funghetto buonissima e sindi che fame complimenti ciao core dunque guardate l'impasto è finito qui mettiamo il pangrattato allora ad essere sinceri questa ricetta viene deliziosa con un pangrattato leggermente più doppio più corposo io non l'ho trovato da nessuna parte come lo dicevo io che come immaginavo io perché non con la polenta raga è una battaglia perché non ho detto proprio una cavolata senti non ci ho mai provato quello che buonissima la paratura con la polenta non ci ho mai provato però dobbiamo provarci formiamo le polpettine le passiamo nel pangrattato allora vi ricordo mentre faccio questa procedura che un po noiosa da guardare in realtà sappiamo fare tutte le polpette vi ricordo per chi insomma ancora non fosse iscritto al gruppo di cucina dove ci sono tante tantissime signore che cucinano preparano ciao la polpetta e preparano preparano tante ricette deliziosissime di chiedere l'iscrizione al gruppo nostro che si chiama cucina con tu per tu con marilu voi chiedete l'iscrizione verrete accettati sicuramente allora catanzaro loredana pasta e peperoni bravissima mia sorella si sta per auto invitare a casa tua cinzia fraudi sul sugo di pomodori freschi valeria noi oggi strozzate i pomodori di gambe che stracciate da buoni buonissimi alla ricetta ciao filo ciao filo annanita e nici dice si confermo mega pangrattato e un po di polenta la panatura risulterà più croccante vedete ok mi avete dato una bella idea ci proverò sapete ora farina per polenta non onestamente parlando non ce l'ho in casa perché la polenta e mangio quasi tutto la poletta la polenta è una di quelle cose che l'ho assaggiato una sola volta e non si ricordi quando facciamo la polenta a casa tua mostro a proposito di polenta con filo a me è un'amica di mia sorella una volta facciamo la polenta vabbè allora è inutile che me le faccio vedere tutte perché tanto il procedimento è sempre quello ciao lucia auguri e chi è così la mamma di ieri oggi è l'anniversario auguri auguri da tutti noi ok facciamo così ora devi girare tu un disastro un disastro ok dai ci siamo i barattoli il metro dove li trovi fai vedere questo qua questo qua che poi va il come sia niente io ci ho messo il pangrattato tappo sopra anche parte di quelli quali mi sono stati regalati però in realtà li li ho trovati perché li ho presi per fuori da un negozio per casalinghi comunissimo li puoi trovare in casa ritrovano sì senti pensi di sì 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 sono comodi perché hanno il coperchio con una guarnizione in plastica vedi è una doppia guarnizione in plastica e quindi praticamente non fanno passare l'umidità allora fai vieni ciao da oria lorenzo di bella inquadra giù un attimo comunque stava morire per la polenta ok ci siamo allora ho messo a scaldare l'olio questo ora si fanno 175 massimo 180 perché ora queste vanno fritte le prossime le faremo in forno quindi invece sempre lo stesso le panate così nel pangrattato e le mettete a cuocere in forno a 200 gradi per una ventina di minuti ora facciamo questo per farvi vedere che vengono bene le passate nel pangrattato e se volete le friggite altrimenti vengono benissimo non so se si può notare altrimenti vengono benissimo anche al forno queste se per esempio ci mettete sotto un'insalatina tagliata sottile sottile ci mettete la polpettina una maionese fatta con la maionese la maionese e peperoni è facilissima allora prendete una falda di peperone arrosto spellato la frullate insieme a una maionese oppure se la volete fare voi utilizzate il classico procedimento dell'uovo limone olio a immersione e frullate bene tutto viene una maionese e peperoni che una delizia ok signore buon pranzo un bacio la diretta è stata velocissima come sempre e torno appena pubblichiamo la diretta vengo a rispondervi singolarmente nei commenti un bacio ricordatevi cucina con a tu per tu con mariluno se non ho l'olio a limone metti olio due cucchiai di olio normale tanto ci sa comunque il succo del limone e la buccia del limone non vi preoccupatevi nebbene ugualmente ricordatevi di chiedere l'iscrizione al gruppo di cucina cucina con a tu per tu con mariluno vi aspettiamo in pagina e sul gruppo e ci vediamo martedì con la prossima diretta ciao ciao